ciao a tutti in un presente tutela l'avevo tirato sul cilindro ho tolto la testa di questo 125 primavera e le fasce l'ho tolte e l'ho sfilata dal pistone perché per provarle abbassando il pistone l'avevo messo da dentro ho visto che la differenza era importante non si toccavano che sono consumate adesso vado a togliere il pistone allora tiro giù il cilindro tiro giù il pistone e tiro sul cilindro per facilitarmi che hanno alzato troppo la vespa ho tolto già altri prigionieri adesso cosa faccio tiro su e vado praticamente a vedere come la situazione perché questo motore qua non l'ho fatto io l'ho fatto un'altra persona e adesso poi sarebbe da togliere il pistone e così poi controllo anche il pistone però il pistone sembra bello a parte un po di sporco ecco ci saranno un po di ci saranno altri filmati interessanti che faremo quando poi montiamo la guarnizione con il cilindro le fasce nuove spiegazione adesso faccio vedere quale fasce come come la situazione abbiamo una fascia vedete che che qua dove si vanno incontrare non si vanno incontrare qua avanza e questo è una e questo adesso mettiamo l'altra questo qui peggio ancora vedete quanto spazio avanza e quindi capiamo che sono da sostituire vi ringrazio per la visione ci saranno altri studi interessanti e alla prossima ciao a tutti